Allora, siamo qui con Marco Nicchetti. Come sta andando il pre-ritiro di questi giorni? Il pre-ritiro sta andando molto bene, stiamo facendo molta tecnica, corsa e forza e si sta facendo sentire. Mentre questa è la tua prima esperienza in prima squadra? Sì, è la mia prima esperienza, sono molto contento per questa opportunità, sto lavorando molto ed è molto dura perché i ritmi sono diversi e poi perché il livello è molto più alto. Mentre quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione? I miei obiettivi sono migliorarmi e imparare da questi grandi e anche magari fare qualche presenza in prima squadra.